Mamma mamma vorrei andare un comics! Io sono scritto all'Associazione Culturale Alfa e tu sei scritto all'Associazione Culturale Alfa. Sigla! Associazione Culturale Alfa Quindi quello che ci spinge a fare tutto questo, quindi organizzare eventi, gite culturali, iniziative artistiche legate al mondo della tecnologia, dei giovani e chi più ne ha più ne metta è perché noi per primi siamo gli appassionati di questi universi e quando si è appassionato di qualcosa è difficile non praticarla nella vita e quindi noi abbiamo trasformato quelle che sono le nostre attitudini più forti in qualcosa che poi è diventato un lavoro ma perché nonostante poi ognuno di noi svolga una professione il resto del nostro tempo è consacrato all'Associazione Culturale. Allora ragazzi siamo qui, sono le 4 e mezza del mattino passate da poco, un pullman veramente bello, rialzato, 67 posti è già qua e stiamo per partire per la gita Luca Comics, l'ennesima che organizza l'Associazione Alfa, la mia associazione culturale quest'anno siamo un sacco, beh le vattaccia però speriamo che ne varrà la pena. Ciao sono Samuel Chuck, sono contento che tu abbia visto questo video se ti è piaciuto puoi mettere un mi piace qua sotto magari potresti anche iscriverti al mio canale, sto preparando dei video davvero eccezionali per te ti passerà cliccare sull'icona qua di fianco o rotonda, quella con la mia faccia e troverai anche due riquadri qua di fianco quello più in alto ti porterà a vedere un video che tratta lo stesso argomento di quello che è appena finito di guardare quello più in basso invece ti farà cambiare completamente argomento ma sono sicuro che ti piacerà un sacco bene allora grazie per il mi piace e buona visione ciao